Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries, io sono Giacomo Brunoro, insieme a me, come sempre, Jacopo Pezzan. Oggi sviamo un po' dai soliti percorsi, dai soliti binari, Jacopo, perché c'è un po' sfuggita di mano questa cosa del gioco Scopri il Mostro, il board game o gioco da tavolo, che dir si voglia, che abbiamo ideato sul caso del Mostro di Firenze, che però forse, posso dire, è anche limitativo dire del Mostro di Firenze, perché può essere applicato a molti altri. Infatti, noi siamo partiti con l'idea di sviluppare questo che doveva essere, più che altro, un esperimento sociale per la prima diretta che abbiamo fatto dal St. John's Pub qui a Padova, con il pubblico presente in sala, e per coinvolgere il pubblico abbiamo pensato di creare questo gioco da fare in società, dove dimostravamo che obiettivamente, con pochi elementi e anche casuali, completamente random, eravamo in grado di costruire una teoria riguardante il Mostro di Firenze che quadrava, in cui, in buona sostanza, un po' tutto tornava. Ecco, li riepilogo, i quattro elementi, sì, sono nazionalità, residenza, stato sociale, movente, professione. Quindi l'idea, appunto, era che scrivendo qualcosa all'interno di queste carte, ma non necessariamente collegato al Mostro di Firenze, perché che si badi bene, noi ogni volta che lo sperimentiamo non diciamo mai che si tratta del Mostro di Firenze, diciamo immaginati un delitto e poi scrivi la nazionalità dell'assassino, la residenza, lo stato sociale, quale può essere stato il movente, la professione. E noi, posso dire che io sono anche, mi è venuta un po' la pelle d'oca, più no, in più di una situazione, perché poi l'ho provato anche, come tu sai, come hai fatto anche tu, durante alcune cene con amici. Non cene eleganti, eh, cene. Cene, cene. E devo dire che, incredibilmente, non dando nessuna informazione, ma semplicemente distribuendo le carte e, appunto, dando queste brevi e non troppo dettagliate informazioni, emergono sinistramente alcune cose, che poi ti andrò a dire, che sono emerse anche l'altra sera durante questa cena a cui ho partecipato, che mi hanno lasciato veramente stupefatto. Sì, l'idea di fondo è quella di smontare la costruzione a posteriori, nel senso che è facile, se si hanno degli elementi veri o presunti tali, costruire una teoria elegante che spieghi determinati avvenimenti. Nel caso del mostro è più facile, perché è un caso lungo, complesso, ci sono mille teorie, ci sono mille indizi, pochissime prove, anzi non ci sono prove, e c'è un caso che è scolpito in immaginario collettivo. Però questa, diciamo, pratica di partire da quattro punti cardinali per trovare poi una teoria potrebbe essere applicata al delito di Via Poma, al caso Kennedy. Agli anni di piombo. Benissimo, a Rappimento Moro, piuttosto che a Zodiac, insomma, o a una Bomber. Perché alla fine sono queste quattro dinamiche che scatenano un po' i pensieri delle persone. C'è chi si fissa più su una, chi si fissa più su un'altra. Però, quello che devo dire io, dando un minimo ecco di indicazione su quello che andavamo a fare, quando l'ho fatto privatamente, quindi non durante la serata, sono andato a rileggermi le carte e ho visto delle cose. Per esempio, qualcuno ha scritto sotto nazionalità e residenza, americano residente in Italia. che è la teoria di giù bevi l'acqua, ma incredibilmente, ma è un dettaglio. Venendo poi da qualcuno che nel mostro di Firenze non sa nulla, non qualcuno che magari poteva essere stato influenzato da questa gregora di pensiero, magari trasmessa da noi o in qualche modo lanciata a modi suggerimento. No. Poi, dopo di che è stato sociale anche lì, o movente, professione medico, medico anche lì. E poi, incredibilmente, sotto nazionalità e residenza, un sacco di volte, almeno due volte, è emersa la Sardegna. Allora, o c'è un pregiudizio culturale, oppure questa cosa della pista sarda, che però è tornata anche in auge recentemente, con tutto il discorso dell'affaire di Vinci. Probabilmente uno, anche se non si fissa sulle cose, le sente, ce le ha in orecchio. Può essere, può essere che ci sia appunto una specie. Io mi sono fatto due idee a riguardo. Una, e mi piacerebbe poi confrontarmi con qualcuno dei nostri esperti che ci segue, una è che probabilmente, come dici tu, ci possa essere una specie di influenza dall'esterno verso alcuni filoni principali, che è probabile, nel senso che siamo bombardati di informazioni, di immagini, eccetera, e quindi magari sì. Però l'altra, secondo me, che è probabilmente un po' più mistico-teologica, prevede il fatto che ci sono talmente tante teorie, oggi come oggi, che quasi quasi, anche sparando totalmente a caso, in mezzo salta fuori qualcosa che effettivamente ritorna o è stato in qualche modo approfondito. Sì, potremmo fare anche per dire la versione storica di questo caso, di questo esperimento, perché forse gioco è riduttivo, con Jack lo squartatore, cioè immaginati queste cose nell'ottocento, ottocento inglese, e tiri fuori una teoria su Jack lo squartatore, perché anche lì abbiamo sentito è una donna, è il figlio della regina, è un pittore, è un medico, è questo, è quello, e c'aveva questo motivo, e c'aveva quello, cioè alla fine potresti veramente fare un lavoro di storytelling, mi verrebbe da dire, partendo da quattro punti a caso. Quello che è significativo, secondo me, è che le persone coinvolte qui non sono esperti o non erano esperti di true crime, quindi non è che, perché se io invito quattro mostrologhi a fare questa cosa, già... Oppure se andiamo alle serate con Marotta, appunto, e quelle convention sul mostro di Firenze, voglio dire bene o male, sappiamo che sono tutte persone molto molto esperte, e quindi andranno tutti quanti, ecco, a puntare il dito su alcune teorie che ritengono più veritiere. Invece il bello è appunto farlo con chi di questo caso sa poco o nulla, e vedere come all'interno di un cluster abbastanza ampio compaiano, emergano, alcune cose che obiettivamente sono sinistramente in linea con diverse teorie. Tra l'altro, tu hai anche commesso un errore imperdonabile, e anch'io, nella prima occasione, perché non abbiamo conservato questi che ormai sono cimelli da collezione automatici. Ma secondo me li avranno recuperati, saranno già in venta su ebay, a 100 euro. Al mercato nero del dark web si troveranno sicuramente. Assieme alle pistole, a Timishoara, trovi le nostre card della prima edizione. Fissandosi su questi aspetti, perché poi alla fine, l'abbiamo detto tante volte, il true crime è la grande moda di questi ultimi anni, e noi ne parliamo ormai da 15 anni, quindi un'idea un po' ce l'abbiamo. Però vedo che ultimamente se ne parla, soprattutto grazie a Netflix, che ha puntato moltissimo, però poi, attenzione, Netflix ci punta perché la gente lo guarda, e comunque i programmi storici da telefono giallo in giù ci sono sempre stati. Tu mi insegni che negli Stati Uniti i programmi true crime sono mille, più di mille, quindi vuol dire che c'è un'attenzione, una fascinazione, un motivo per cui la gente segue queste cose, e quindi anche se non conosci il caso specifico, già vedere movente, cioè gli elementi questi, moventi, professione, nazionalità, residenza, stato sociale, ovvero i dati base di un profile, fondamentalmente, ti scatena un po' forse anche la fantasia, perché poi ho notato due fenomeni, dimmi se ne hai notato anche tu, quello che lo fa per cazzeggiare, che mette appunto cose assurde apposta per fare la risata, ma poi c'è anche quello che ci pensa, e poi le due cose per quanto paradossali insieme funzionano. Allora compenetrarsi in una visione che appunto, appunto paradossalmente è molto simile a quella di alcune teorie che sono emerse poi negli ultimi anni, perché non dimentichiamo che ormai se fino a 10-15 anni fa le teorie sul caso del mostro di Firenze erano sostanzialmente 3-4 con qualche spin-off, diciamo che puntava più in una direzione rispetto ad un'altra, adesso io onestamente ho quasi perso il conto, perché ne escono parecchie. Diciamo che le teorie storiche erano Pista Sarda, Serra Killer Unico, Compagni di Merende e Relativo Secondo Livello e poi a un certo punto la teoria dell'acqua, quindi con Joe Bevilacqua, eccetera eccetera. Adesso sono esplose, perché abbiamo vari mostrologi che sostengono di conoscere il nome del Serra Killer Unico che non è mai entrato nelle indagini, ne ho conosciuti almeno due che hanno questa sicurezza. Sì, sì, non hanno mai fatto il nome, uno anzi l'ha fatto anche alle autorità. Poi abbiamo la teoria del Rosso del Mugello, poi abbiamo la teoria dell'ex legionario, poi abbiamo la teoria nera che vorrebbe questi delitti legati agli anni di Piongo. legati alle versione, insomma, potremmo andare avanti per ore da questo punto di vista. Quella dei Guardoni, quella della setta che è diversa dal secondo livello massonico, insomma, un casino. Narducci come spin-off appunto di questo mondo, del secondo livello, esatto. Sì, sì, abbiamo gli spin-off degli spin-off degli spin-off e la situazione secondo me peggiorerà, nel senso che è destinata a aumentare a meno che non ci sia qualcosa che non arrivi un elemento di rimedio. A te dedicarlo anche appunto, sempre all'interno del mondo sardo, quindi, sì, sì, si contano veramente, no, si contano, abbiamo perso il conto già a dirle così, ma se me ne vengono in mente già almeno altre 4-5, quindi, sono talmente tante, ma appunto la nostra idea era quella per cui, partendo, diciamo, a ritroso, se uno già si prefigura in qualche modo l'identità di un assassino, poi è facile, a ritroso, costruire una teoria tecnicamente anche elegante, anche bella, che da un punto di vista così letterario fa stare in piedi tutto, però, voglio dire, è diverso da un'indagine seria sul campo che prevede appunto la partenza invece dagli elementi chiave per poi andare verso l'identità dell'assassino. Infatti, la tendenza è quella a costruire, a scegliere anzi, gli elementi indiziari, perché probatori non ce ne sono, se non dichiarazioni che però, anche lì poi abbiamo fatto un altro esperimento sociale, ovvero quello di come la memoria non sia mai così certa quando si tratta di riconoscere persone o cose, quindi, diciamo, che si tende a prendere gli elementi indiziari e a scegliere quelli che più vanno bene alla nostra teoria precostituita. Esatto, alla nostra idea. E questo è un po' l'errore, secondo me, a monte, che ha macchiato tutta l'indagine, perché poi a un certo punto la SAM cosa fece? Prese tutte le persone che avevano computeriati sessuali, che hanno stato in carcere, che avevano un certo profilo, e iniziò a scremare, a scremare, a scremare. Pacciani era sempre dentro tutti questi elenchi e così si arrivò a Pacciani, anche se c'è la leggenda della soffiata, della lettera anonima, insomma, in questa storia c'è tutto il contrario di tutto. Però qui è il contrario, vogliamo dimostrare che partendo da quattro cose casuali fatte da persone che non conoscono il caso e che non hanno nessuna attinenza col caso, comunque potresti arrivare a costruire una teoria che ha un buon 60-70% di vero simiglianza con quelle che già ci sono. Che ha un senso, che sta in piedi, poi alla fine la maggior parte di queste nuove teorie che si sono sviluppate negli ultimi anni sono appunto teorie completamente fondate sulla narrazione perché se le prime che hai nominato in qualche modo provenivano da fonti di indagine, quindi erano stati gli investigatori, i carabinieri, la polizia che avevano elaborato alcuni indirizzi di indagine, le ultime nascono dalle scrivanie, dalle biblioteche di mostrologi più o meno famosi. Ecco, il vulnus di queste teorie qua, molto spesso, è che possono essere anche elegantemente costruite, però non hanno quel fondamento ecco di scientificità o di indagine che invece le prime teorie avevano. Ed è interessante vedere come appunto con pochi elementi e con un minimo di narrazione, mettendoli poi insieme, costringendo poi la persona a creare un minimo di storia, perché ti chiedo bene stato sociale, movente, professione, nazionalità, adesso costruiscimi una storia e da questo si vede che emerge qualcosa di coerente ed interessante. Sì, sì, quindi alla fine più che un board game forse potrebbe essere un gioco di carte questo, ci stiamo pensando perché beh, ve lo dico insomma non è non siamo tenuti alla segretezza su questo, dopo il successo del reel in cui si parlava del gioco qualche casa specializzata ci ha contattato ci ha chiesto se siamo interessati a cedere i diritti per quest'idea va molto valutata insomma dobbiamo fare noi dei ragionamenti di opportunità di qualità anche avere certe garanzie però è una cosa che stiamo valutando ecco anche perché dal colloquio che ho avuto quello che è piaciuto è che si può con uno schema semplice ragionare già in un'ottica internazionale perché lo stesso gioco lo puoi vendere in America per Zodiac ci sarà un caso analogo da un'altra parte cioè non hai bisogno di grandi infrastrutture diciamo tecniche e quindi anche noi adesso valuteremo con calma come muoverci però in questa fase in questo momento lo stiamo anche distribuendo gratuitamente perché il nostro è quasi un interesse di livello sociologico quindi a chi volesse noi siamo disposti a inviare le card per fare questo tipo di esperimento a patto che ovviamente ci mandino un minimo di resoconto un video un mini reel un qualcosa che possiamo mettere insieme e magari le immagini di quello che è emerso durante una serata con amici eccetera da mettere perché adesso cominceremo a raccogliere questa informazione a metterla in un minimo di database per vedere ecco anche a livello statistico dove arriviamo e dove si va a parare quindi chi vuole essere e chi fosse interessato ci può contattare o per il sì sì certo può scriverci a info chiocciola le casebooks.com c'è il nostro gruppo telegram true crime diaries oppure qui sui social su instagram facebook x insomma siamo un po' dappertutto tiktok vedo che ultimamente stiamo crescendo molto su tiktok oppure anche qui su youtube spotify insomma i canali sono molteplici seguiteci perché comunque questa novità dell'ultima ora è assolutamente in divenire e potrebbero succedere cose interessanti secondo me ora l'idea sarebbe quella conoscendo un po' i tempi dell'editoria di arrivare a Natale 2025 con il gioco in vendita verosimilmente potremmo adesso ci studiamo un attimo aggiungere magari una variabile un secondo livello di gioco stiamo un attimo cercando di capire che cosa fare e in questo momento qui diciamo stiamo studiando ancora la cosa perché in effetti quello che era nato un po' così come esperimento estemporaneo e diciamola tutta anche per intrattenere un po' il pubblico in sala perché quando fai una live con delle persone dal vivo la cosa fondamentale è coinvolgere il pubblico in sala altrimenti è molto più difficile arrivare in fondo ad un evento del genere però quello che doveva essere un qualcosa nato per un evento singolo e poi magari sostituito da un qualcos'altro sta diventando giorno dopo giorno qualcosa che ci lascia sempre più più stupefatti bene per il resto restate appunto in contatto con noi seguiteci commentate vedo che lo scambio di commenti è sempre vivo e si sta anche mantenendo su toni civili cosa che ci fa sempre piacere siamo sempre la ricerca di qualcuno con cui aprire un dissim quindi anche se volete insultarci ben venga per il resto vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao 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 Ciao.